Primo giorno di ritiro in Abruzzo per il Napoli. La squadra di Spalletti è arrivata questa mattina presso l'hotel Acquamontis di Rivi Sondoli. Nel pomeriggio alle 17.30 il primo allenamento allo stadio Patini di Castel di Sangro con tanti tifosi ad accogliere la formazione partenopea. Non è mancato il saluto del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. L'Alto Sangro e l'intero Abruzzo danno il benvenuto ai giocatori del Napoli calcio e all'intero staff, ha detto Marsilio che per le prossime due settimane proseguiranno la preparazione in vista del campionato di Serie A nella nostra regione. Per il terzo anno consecutivo siamo contenti di ospitare una squadra di grande prestigio capace di attrarre decine di migliaia di tifosi nel nostro territorio. Il Napoli resterà in Abruzzo per due settimane. Mercoledì, sempre a Castel di Sangro, il primo test amichevole contro la formazione turca del demispor allenata dal tecnico italiano Vincenzo Montella. E questa mattina, durante la registrazione del programma Strade d'Abruzzo, siamo riusciti ad intervistare allo stadio di Castel di Sangro lo storico magazziniere del Napoli, Tommaso Starace. Ascoltiamolo. Sì, l'Abruzzo è il posto più bello che ci può essere. Sta vicino a Napoli e quindi è un posto bello caldo per i nostri diffusi napoletani. Siamo vicini, vengono qua, si divertono e c'è l'aria verde, l'aria fresca, tutto un verde intorno. Questo è il terzo anno per voi, come vi siete trovati in Abruzzo? Ma noi ci troviamo sempre bene, noi ci facciamo vedere bene. Noi siamo in Napoli, siamo di sorriso, siamo in sole. Stadio è stupendo. Eh beh, questo non manca. I nostri amici giardinieri qua non fanno altro che farlo e lo stadio lo fette per noi.